no rai gaius e la foto e quinto episodio di questo fantomio io odio di fantomatico oggi anche te nessuno si chiama ma ti metti il legno metti il legno va a prendere quello taglia gli alberi tutto non di qua non di là e tutti per me fai tutto me e un petto tutto tutto tuo capo di sciopero non usare sara io il primo a mettere piedi in questa zona ho già messo piede un po' di tempo fa è preso la cesta no ecco la prende oh mio dio è fighissimo vediamo che sono arrivato a questa cesta minchia c'era un'ambia c'era un'armatura facciamo un metà a metà l'ora di prende stivali un letto il legno lezze costantone data per una persona ok e buona allora avviso al fascino visto che qua c'è il senso staro posto mi sembrava l'amonte visto che siamo te degli americani colonizzatori non depredare la zona infatti se mette i cactus in mezzo al ponte così siamo un cibo e mezzo un cane un cane aspetta da me deve caricare un cane non è riuscita c'è in pratica il mondo è finito qui perchè vedo allora una piattaforma sospesa un cane come facciamo da dottarlo non abbiamo uscita riscaldi ok io senti mi trasferisco in questi isola e ciò sarà la mia fortuna aspetta ho visto una porta una porta di renare ma invece non è una porta si assomiglia una porta esistono le porte di renare no perchè guarda che troppo figo hai una torcia non c'è dammi una sola perfetto mi servia proprio bene visto che qua io direi che c'entra qualcosa sta roba ho visto che ci sono delle scale infatti ho trovato una roba dove si può scendere perchè io ho sbagliato allora ah e c'è guarda che qua c'è lana quindi si possiamo fare un altro letto finalmente a vero c'è in pratica quindi prendi sai cosa fai tu adesso io scendo giù e vedo cosa c'è guarda quanta lana no l'altro l'altro vabbè ma che cosa c'è giù è tutto buio però sono salvo però si è sfondato tutto quanto ma chiudo l'acqua aspetta aspetta allora vedete chiudi l'acqua ok c'è ancora acqua buona allora e cosa sta succedendo ho trovato un po' stuporciente io sto andando a dormire un pipistrelli qua si sono ragnatele qua c'è vetro e sento degli zombie quindi ma voglio andare da questa zona come faccio no mi hai rotto la sabbia ma va parkourman non mi lascia perché ci sono le vado a dormire vai allora arco 64 frecce spada perfetto spada di ferro ehi dammi il letto dammi il letto fai un letto fai un letto veloce dormiamo che vado a dormire vado a dormire giù sotto non abbiamo legno scherziamo ce l'abbiamo sotto i piedi però no non raminiamo questa composizione dai fallo staspa di mob veloce prendi un po' prendi tre di legno stavano noi voglio di più ok perfetto silenzio imbarzante allora dimmi giù lo scoletto l'ho piazzato per te dov'è? lì l'ho spaccato avete tornato in mano che palla dammi io vado a scendere vado a dormire giù io non mi fido di stare qua fuori veloce veloce dammi il letto ma aspetta il letto aspetta non capisco non capisco questa situazione di tempo è notte dammi il letto veloce prima che venimo veloce e notte mobili tritetti non mi avrete mai vivo non mi avrete mai vivo alla mia squadra di farlo e dammi il letto veloce veloce ma è notte la tabilletta notte è notte perchè da reticello giallo sarà bloccato e non è in più che note più note che mai non ha più l'ufficio attore ma proprio la misura la misura texture m mi sa che un ender un e un enderman ciascamato perchè sono così arrabbiata nel collo tirato io sto dormendo nuovite a dormire un gripper amelia via un po' di dormire sto dormendo le rovini costo un testo per me si chiudere tutto fuoco e lo fa non mi fido ti tu porterai dentro su un mega party fatala che mi alza vetro impressioni mia un altro vero si si è vetro però chiudi chiudi aveva stato questo qui 1 città i piccic no perché non lo posso pensare ah è sotto spaccare il nostro brick ok adesso posso dormire sto dormendo oh mio dio aspetta aspetta vi sta anche veloce dormi lol ok ok perchè abbiamo ridistrutto non lo so hai una spada una delle migliori ok fermo spacca anche a lato vedo molti mob l'idea merali farò scoppiare tutti artefax è stato un piacere lavorare con te oddio bastardo no no il bastardo non inteso dio non lo so non c'è ne fasi non mi avrete mai e c'è un entro manco fuori che ci aspetta bene con un cactus in mano abbastanza incazzato mi sa no succedendo tutti pavola aspetto ci sono tutti parenti che ci sono tutti adesso non sto eccellente smithers bene quanto uno scheletro e c'è anche la fine del mondo quindi ciao non c'è niente con sotto aspetta ci sono le lampade di redstone qui secondo me se si può scendere ancora beh metti un po' di luce non è possibile scendere ancora finito il piccone ma se significa è una brutta cosa ok ho preso la cross è uguale all'entrata tipico sangue oh 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 광er anche io è quindi orse cosa faccia spacca del vetro mi immergo nell'acqua ild il corni tele di merda alcuni niente ne di merda okè di sunglos ora Hunter piazza piastra sabbia sana per so il.." ラ con te costo rumore affetti i piccoli bandersi presumo perchè fa quel rumore uno dei suoni introdotti questo sono due ore addio prendi più roba che puoi scappiamo ho sbagliato sono schizzato le tue cose fuori se ora tu non porti quel culo con tutta la roba qua ti ammazzo ti ammazzo di botte vengo giù e ti ammazzo cioè rendermi che fa la caffettiera ho paura si che suono di merda a me perché sto portando anche la crafting table m mentre saremo che se la mano registrando tu dice tipo se che cosa serve la lana se ci serve a imparare particolarmente qualche cosa particolarmente per metter un posto più sicuro che qua perché se non mi uccidi un'altra volta addio mi metto vicino a scuola allora la lana non penso ci serva niente pane dobbiamo fare slim è finito tutto il legno quando sei morto no quello che avevamo è finito muoviti corri si ok basta ok basta però tutto fiero con tutta l'armatura n perchè stavo salvando il culo è una freccia fai f5 una volta lol precisa nel collo vieni qua e metti tutto in una cesta iniziamo a fare bene le cest qua allora perchè allora facciamo la cesta degli oggetti tipo terra roccia una cesta degli attrezzi una cesta delle allora intanto qua ti butto tutte le cose tue no boh butta tutto nella cesta tanto no te lo butto per terra questa è tua allora questa è tua quella la nell'angolino è la roba inutile questa qua è la i materiali questi sono le armi e questo è il cibo vicino a loro ok ciao uh ho una perfetto vabbè li ha allora in quella del cibo mettiamoci anche il grano oh mio dio spero spero che non avete sentito niente so ho sentito di crisi presenti i poi il link che apre c'è il tipo che urla uguale eh è la mia maesternativa eh si scoprì che la mia amma fare i link esatto stranottisce poi prende suono e lo allunga eh 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 allora perfetto perchè non crescono queste maledettissime angurie allora nel cibo poi materiali anzi faccio c'è ancora legno? so 5 di legno dammi una accetta e vado a rifiutare mmm non abbiamo accetta vai 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 a mani nude no r aia non c'è niente non c'è assolutamente niente in queste ceste ho tutto io dimmi cosa ti serve non accetta costruisci non accetta veloce veloce cosa si vuole a spaccare due due pezzi di legno a mano so che sto andando spaccare l'accetto allora questo e questo ora in grigio a fare le coltivazioni seri poi qua ci vanno i materiali quali per craftare nella cesta che non c'è qua ci vanno i materiali la costruzione sai che non so di quali materiali tu stai parlando ver si si qua ci vanno gli equipaggiamenti ah beh dai costruisci qui questo e qua ci va tutto il resto della roba quindi se questi materiali da miniera da sb ehm non hai un piccone ver non ho niente è il piccolo il legno niente non ho e saranno i materiali lo metto oh mai attento legno scherzo apri un fai una fottuta cesta ti hai fatto e fuori e fuori oh finalmente è cresciuto melone siamo ricchi oh 5 semi di melone perfetto ora faccio le coltivazioni serie cioè io perchè sono serio perchè sta registrando perchè sennò le faccio lui e qua ci va un fottuto coso quei materiali da miniera che sono questi quello quaggiù ci va legno che però mi serve un secondo per fare c dammi un s piccola mp non ho niente ce l'hai materiali non è vero tu menti cominci a costruire una piccola base non possiamo sempre stare sotto terra ovvio mi viet con un quanto ok non pensare che muoverò di qua abbiamo anche ferro costruisci un secchio se il mio schiavo quanto far robiamo un po' no i fiori si mangiano perchè ci sono fiori nella roba da mangiare no no mi cavo doveva mettere la mia sette di ferro allora stiti igno faccio un occo mi servo altri stick nella materiali da le ho craftato il resto ok per un sacchiello ti entero io mi licenzio dove sei fuori oh abbiamo altra roba tieni prendi questa accetta in guincia distruggere gli alberi te l'ho buttata dietro e dove sei andando non mi avrei mai no 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 scappa con la canada pesca tu te l'hai no no foto buono allora m che in questo certo che tanto dovrà uscire prima o poi da casa e tanto abbiamo andare a dormire che arriva la notte ok allora dormiremo per la prima volta è messo il cibo i fiori insieme pensare si potessero mangiare dove possiamo dormire possiamo dormire là sotto dove c'erano i pigmen cosa è un pochino amico tu dormi là sotto io mi sono già fatto la mia stanzina qua sotto ok io dormo nel nether spazio nether e sono le 5 quindi mi sa che dobbiamo si infatti ok dormiamo io dormo qui io dormo in real guarda dove sto andando dormire vieni aspetta perché all'aperto anche carbone qua e io dormo laggiù invece mi sono mi sono fatto una finestra alla sola per fare a rieggiare un po' quando sono anche io dormo con te cosa? bolli abbiamo visto che c'è carbone prendi molto carbone no poi dopo prima dormiamo prima dormiamo e poi finito l'episodio oh mio dio ma è stato matrimoniale bolli ci vediamo al prossimo video e ciao a tutti